eccoci e bentornati sul mio canale siamo sulla beta di titanfall 2 disponibile ieri su xbox one e playstation 4 ho fatto un paio di minuti di gameplay così per provare un attimo il feedback con i controlli e adesso facciamo la prima partita intera in live così proviamo bene la connessione vediamo il funzionamento vi faccio vedere anche a grandi linee i comandi e via dicendo andremo a fare un tutti contro tutti o meglio un death match a squadra e non tutti contro tutti un vero e proprio death match a squadra vediamo un po stiamo parlando di una pre alfa tech test che è stata introdotta ieri sono se non sbaglio 13 giga su per giù e praticamente tutto questo ci permetterà vediamo un po sono arrivato a livello 2 non so come mai alla partita precedente aspettate che però le cuffie sono veramente troppo alte ok allora qua io direi di mettere armory come abbiamo messo come fazione ok perfetto banner patch lasciamo banner network settings e vibrazioni ok look sick ok questo sta a posto audio video lobby giuste musica ok vediamo il volume nelle lobby perché non è che mi piaccia sinceramente tantissimo questo l'abbiamo fatto che dobbiamo fare qui volevo mutare muta room l1 ok perfetto li mutiamo un po così almeno siamo mut a mut muted perfetto ok e direi di andare a giocare su piloti contro piloti quindi un death match a squadra vediamo un po che cosa riusciamo a combinare in questa prima partita in live sulla beta di titanfall 2 mappa homestead se il video raggiunge i 250 mi piace ragazzi domani prossimo video della beta che vi spiego come funziona ci sarà questa beta in questo weekend quindi si potrà provare con alcune modalità come abbiamo potuto vedere al momento sono tre la prossima settimana ce ne saranno altre oh qua siamo già a perdere i 19 20 a 25 che cacchio oh cacchio oh mamma mia come mi ha killato da paura questa come mi ha killato da perfetto ci siamo già vendicati già ci siamo fatti uno allora i tassi sono molto semplici ragazzi c'è la classica scivolata come vedete all'advanced warfare c'è il doppio salto incredibile ma vero per lanciare la grananza riuscite a sparare il doppio salto vedete uno e due e poi c'è il classico rampino vedete che avevamo potuto ammirare oh cacchio spari a uno e ne spunta un altro dietro vabbè però come come gioco mi sembra veramente molto veloce e frenetico aspetta aspetta volevo un attimo no e dai questa è figa come arma la seconda la volevo un attimo provare guardate che figa prende si carica e guardate il cacchio spara vediamo un po' se ci riesco però è tosta da utilizzare eh dai prendiamo l'altra va questa c'ha il caricatore e a vista delle munizioni siamo 38-64 ci stanno amminate brutto aspetta mio live l'up 3 muori via aspetta aspetta bello che è così aspetta che ok e muori mamma mia ragazzi attivata l'abilità aspetta e famo il giro e muori mamma mia ragazzi se iniziamo così bene con la beta di Titanfall no è entrato che cacchio 49-54 l'abbiamo fatto già come stiamo andando 8-5 8-5 non male aia aia via 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 mi sono sbagliato cacchio a momenti mi auto ammazzo a momenti mi auto ammazzo le armi mi sembrano molto ben fatte aspetta che c'è sta qualcuno qua muori ok ottima kill se riusciamo ad andare dall'altra parte perfetto oh mannaggia che mi ha ammazzato ma no con la stessa arma mia pensavo c'avesse tipo un fucile a pompa o un qualcosa invece no lanciamola giù lanciamola giù dai vediamo un po' se arriva qualcuno stanno tutti qua stanno che ho sentito sparare cacchio via 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 un diamante cacchio sta sta sopra piano no cavolo che cacchio stiamo facendo un 9-7 vabbè non male dai come prima partita avere il problema abbiamo fatto quella serie assurda fatta molto bene questo è morto andiamo 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 allora stai attenti che stanno tutti qua a sinistra è bella comunque questa arma questa c'ho paura che spuntano che ci stanno tanti punti dove si possono mica è morto vai dentro via via attento che ce l'hai dietro sarà giù aia che mi ha preso ah quello là dentro mazza già sta gente sta già a livello 8 già ci sta annerdato e brutto già ci sta annerdando di brutto andiamo andiamo via via 75 81 quanto si arriverà a 100 doppio salto comunque è bello sinceramente come impressione è buona perché è bello veloce e frenetico sinceramente livello 4 ma poi siamo fatti due livelli così come se piovesse intento ok stiamo nella zona nemica perfetto che stiamo qua tocca sta molto attenti ho visto qualcuno passare no cecchinata cecchinata dall'alto guarda tu stava camperato tu stava camperato ragazzi miei bello attiva perfetto mio via 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 aspetta che ci sta cacchio saluti oh cacchio mamma mia mi ha fatto prendere il corpo via 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 scappa mamma mia c'è più munizioni c'è più munizioni 1410 dai non male non male per essere proprio la prima partita ufficiale vittoria 199 di un punto incredibile perfetto ragazzi se a 250 mi piace fatemelo sapere che ci vediamo con tanti nuovi video qui su Titanfall 2 se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale